ragazze bentornate sul mio canale oggi spacchettiamo un pacchettino insieme ovviamente già sbirciato all'interno del pacco questo è un video in collaborazione con l'azienda babycraft aspettate che accendo la luce perché se no non si nota nulla ecco qua qui c'è un tempo bruttissimo piove piove da giorni e quindi è meglio se accendo la luce del cellulare così almeno vedete più in dettaglio il tutto questo pacchettino mi è stato spedito come vi dicevo dall'azienda babycraft mi è stato spedito il 9 aprile e ci ha impiegato esattamente 51 giorni per arrivare a casa è arrivato oggi che è il 30 maggio e ha impiegato tutti questi giorni dovuto sicuramente al disservizio delle poste italiane dico questo perché ultimamente anche le bollette della luce del gas e dell'acqua mi arrivano in ritardo mi arrivano addirittura già scadute quindi credo che sia dovuto proprio al disservizio delle poste che appunto se già una bolletta che dovrebbe arrivare dall'italia e non dall'estero impiega salute mami il cane ha salutito impiega tutto questo tempo per per arrivare a destinazione un pacco che viene effettivamente dall'estero è normale che impieghi di più giorni quindi ho già avvisato l'azienda babycraft hanno monitorato insieme a me il pacco quindi state sicuri che appena fate un ordine sul sito di babycraft vi allegano appunto il codice di tracciamento e potete monitorare il pacco tutti i giorni cioè state lì fisi sul computer a monitorare il vostro pacco vi mostro quello che ho scelto dal sito adesso scarto il tutto ovviamente tutto questo ambaradam era all'interno di questa busta io ho già scartato come vi dicevo prima già ho sbirciato un pochettino perché ero curiosa come una scimmia e poi il tutto è bello avvolto come una mo di mummia all'interno del pluriball quindi giro il tutto e vi faccio curiosare quello che ho preso aspettate tolgo tutto ecco qua così almeno rieccomi allora questo qui è il fogliettino appunto dove ci sono scritti tutti i codici e le quantità degli articoli scelti adesso ve li illustro tutti quanti partiamo con queste pinze questo è il codice sono delle pinze della babycraft mi apro la confezione ed eccole qua sono delle pinze a punte piatte rivestite in punta in plastica all'interno della confezione è presente anche eccoli qua l'altro eccolo dicevo è presente anche un'altra coppia del rivestimento appunto in plastica come sostituzione a questi qui e questa pinza ci permette di modellare e piegare i fili e altri componenti delicati senza rovinare la superficie o del filo oppure del componente è fatta in questo modo e non vedo l'ora di sperimentare con questa questa pinza l'appoggio qui ecco qua metto anche i gommini se no me li perdo poi i prossimi articoli che ho preso sono questi ho preso gli orecchini a francesine esattamente sia in acciaio e sia in acciaio dorato queste qui in acciaio il codice è questo qui sono 100 pezzi misurano 15 per 10 mm ve le mostro da vicino è proprio la colorazione acciaio si aprono in questo modo e poi sotto hanno l'anillino e possiamo appendere le nostre creazioni o che sia assemblato oppure moduli in tessitora le trovo davvero molto fine ed eleganti questi generi di orecchino le preferisco alle monachelle quelle semplici le trovo davvero molto molto carine e anche più stabili invece la monachella di solito non so voi ma se non viene fissata io me le perdo invece questo genere qui posso fare di tutto e l'orecchino resta al lobo poi ho preso queste qui come dicevo prima in acciaio con il rivestimento dorato queste sono sempre 100 pezzi questo qui è l'articolo il codice ve le mostro anche queste in dettaglio sono davvero molto molto lucide si aprono sempre nel medesimo modo e si chiudono così davvero molto molto carine poi ultimamente io preferisco prendere tutti i componenti in acciaio perché sono sicura che poi va bene per qualsiasi tipologia di persona per esempio io non tollero il nickel e quindi preferisco utilizzare per me tutta la minuteria in acciaio quindi quando vedo proprio l'acciaio la sezione acciaio impazzisco e faccio scorta poi ho preso questi ah mi sono dimenticata di dirvi la misura di questi qui queste qua dorate sono un po' più grandi rispetto a queste qui in acciaio ma di poco mentre queste misurano 15x10 mm queste qui misurano 16x12 mm sono leggermente più grandicelle ma di poco poi ho preso dicevo questi perni a vite davvero molto carini sono 200 pezzi e questi qui prevalentemente li ho presi per le creazioni in resina tipo i cabochon oppure le sfere fatte in resina e questo serve appunto per creare il gancino e poi appendere la creazione quindi le ho prese queste qui colorazione dorato questo qui appunto è il codice e dicevo sono 200 pezzi sì 200 pezzi sono fatti in questo modo senza che apro la bustina sono proprio dei perni a vite e misurano questi qui se non erro 8x4 mm poi all'interno dell'info box ovviamente vi metterò tutti i link di tutti i prodotti scelti questi li posiziono da quest'altro lato poi ho preso tre bobbine di fili ed eccoli qua sono i fili della Benecraft li ho presi in tre misure differenti tutti e tre sono dei fili in rame con incolorazione oro questa qui è la misura un millimetro vedete si legge qui sono questa qui è da 18 gauge sono esattamente 10 metri di filo poi ho preso aspettate il codice di questo ah eccolo qui è dietro questo è il codice appunto di questa misura qui poi ho preso anche la misura da 0,8 mm da 20 gauge sempre 10 metri il faretto qui ecco qua e poi ho preso l'ultima misura che è la 0,4 mm 26 gauge e sono questa qui sono 60 metri di filo e lì vi mostro questa qui la più piccina eccola qua spero di realizzare dei bei modeling wire mi sta appassionando anche quest'altro hobby spero di essere capace a realizzare qualcosa con i fili in rame vi mostro anche questi altri con il codice questo era appunto 0,8 e 0,4 il codice è questo qui 0,8 questo è sicuramente adatto anche per realizzare le monachelle e poi vi mostro anche questo qui che è da un millimetro eccolo qua bello lucido e anche bello resistente ok poi infine aspettate le appoggio sul letto infine ho preso questo stampo in silicone gigante perché non so se si nota ma è grandissimo misura esattamente 25 per 16 centimetri ve lo mostro aspettate vi mostro prima il codice che è questo qui sempre se ci riesco ecco qua ed eccolo qui davvero molto molto lucido non so se si nota vedete sono davvero molto belli precisi in forma di cuore c'è il cerchio l'ovale ci sono i quadrati più piccoli quelli più grandi le goccine sono tutti quanti con non sono specchiati cioè non sono sfaccettati sono sono lisci però sicuramente usciranno delle creazioni in resina davvero molto lucide perché lo stampo è lucidissimo e ovviamente questa tipologia di stampo può essere utilizzata anche per non solo per la resina epossidica ma si possono fare anche lavori con la cera col sapone o anche con il gesso non tutti lo dicono però questi stampi in silicone sono davvero molto versati ci si può fare davvero di tutto molti lo utilizzano anche per realizzare delle creazioni anche col cioccolato perché è in silicone quindi volendo può essere anche tranquillamente utilizzato in cucina ovviamente poi andrà utilizzato soltanto per per la cucina non ci si può giocare con dopo con la resina o con il gesso oppure con il sapone e così via andrà utilizzato solo per quel solo per quel lobby e niente questo è il mega stampo che non vedo l'ora di utilizzare anche questo qui sicuramente sperimenterò un po' di cosine anche questi cuori sono davvero molto carini mi ricorda molto il cuore di titanic di della della signora il cuore blu enorme o era o era questa grandezza qui no mi sembra più questa grandezza qua il cuore dell'oceano che si chiamasse così mi sembra di sì niente ragazzi queste erano tutte le cosine che ho scelto sul sito di bibicraft non vedo l'ora di realizzare sperimentare specialmente sia con i fili e sia con questo stampo in questo stampo in silicone e sicuramente realizzerò dei tutorial in collaborazione con l'azienda perché già ne ho parlato sicuramente realizzerò anche dei tutorial con questo materiale salute Laila il cane stornutito dicevo sicuramente realizzerò dei tutorial in collaborazione sempre con bibicraft io come sempre vi saluto un bacione e la prossima con nuovi video ciao ciao